Si è riunito il Consiglio di indirizzo della Fondazione Matera Basilicata 2019 per discutere della governance di questo importante soggetto che ha portato sui più alti scranni della cultura europea la città dei Sassi. C'era stata la polemica su un eventuale presunto decentramento rispetto a Matera della governance. C'è stata un'intesa? C'è pari dignità di trattamento dei soggetti coinvolti? Finalmente dopo tanti anni è venuto alla luce questo Consiglio di indirizzo, orgoglioso di farne parte, discussione sullo statuto. Primo elemento la proroga di 12 anni al 2035, elemento acquisito, così come la sede sulla quale l'intesa è assoluta, la sede sarà e rimarrà a Matera, eventuali altre sedi di rappresentanza potranno essere decise dal Consiglio di amministrazione in giro per l'Italia e anche oltre, così come definita in maniera finale il concetto della governance. Comune e Regione sono fondamentali nella loro presenza decisiva, preclusiva, per rendere operativo un Consiglio di amministrazione, in particolare quando deciderà sulle sorti, su chi sarà il Presidente, il Vicepresidente e sull'approvazione degli atti più importanti, compreso il bilancio. Quindi questa condizione di pari dignità dei due soggetti che hanno fondato questa fondazione è garantita. Ora sarà domani pomeriggio la ratifica del testo per poi convocare davanti al notaio e la firma. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro di sintesi. Sì, le prerogative che ho voluto mettere in campo a partire dal 2021 nel marzo, quando in Consiglio si votò la mozione per far proseguire l'esperienza della fondazione, oggi ha avuto il suo compimento e al di là delle polemiche credo che la Regione abbia compreso le istanze legittime di una comunità come quella materana che vuole essere protagonista anche in futuro della fondazione Matera Basilicata 2019, perché questo è anche il nome confermato che deve continuare la propria attività nel futuro. Rispetto allo statuto, diceva lei, se ne è discusso, ci sarà un cambio minimo di statuto? Se sì, in cosa? Ci sono delle modifiche che sono soprattutto necessarie, a parte la data e soprattutto legate al nuovo profilo che si deve dare la fondazione, perché non avendo più un dossier da realizzare deve intanto trovare una finanza continua per questi dieci anni che deve essere assicurata nell'ordinario dalla Regione, che chiaramente non ha ancora deciso le cifre, ma insomma si parla di circa un milione di euro. Questo sarà una dotazione iniziale finanziaria a cui però bisognerà aggiungere le attività che dovrà fare la fondazione per recuperare partnership private, costruire soprattutto modalità di valorizzazione, quello che chiedo, del patrimonio culturale, dei contenitori culturali che esistono in questa Regione, a partire dalla città di Matera e dalla provincia, ai quali chiedo anche di essere partecipi non solo nelle rivendicazioni, ma soprattutto nell'operatività. Bisogna, credo, costruire con la fondazione processi di valorizzazione del patrimonio culturale a cui vanno affidati la gestione. L'esempio della Cava del Sole da risolvere, domani affronteremo anche questa emergenza, così come per gli altri contenitori culturali possono essere e possono vedere la fondazione protagonista nel rilancio. Prematuro dire se il Presidente sarà Materano. Ma credo che il Presidente uscirà, così come era nel passato e come io ho chiesto e diciamo anche la Regione ha fatto intesa, all'interno del Consiglio di Amministrazione. È chiaro che attualmente il Consiglio di Amministrazione FR è costituito dall'Università, dalla Presidente della Regione, dal Sindaco di Matera, dal Presidente della Provincia e dal Presidente della Camera di Commercio che nelle sue figure apicali hanno una loro provenienza. Nel Consiglio di Amministrazione la presenza di Regione Comune sarà fondamentale per decidere la Presidenza, quindi è chiaro che bisognerà trovare una sintesi come è successo nel passato. Fondamentalmente non cambia nulla, bisognerà lavorare in sinergia.